Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Questo provvedimento denominato storicamente mille proroghe, credo che da quest'anno si possa chiamare 568 proroghe, tante sono le poltrone dei parlamentari di maggioranza che hanno tentato l'ennesimo accordo pasticciato per tenere insieme una maggioranza che non ha... Sì, c'è un rumore al microfono di sottofondo. Prego. Dicevo grazie, poi magari provo a recuperare il tempo. Dicevo, questo provvedimento da mille proroghe sarà denominato 568 proroghe, tanti sono le poltrone dei parlamentari di maggioranza che tentano di salvare e allungare l'agonia di questo Governo con questo ulteriore provvedimento. Una maggioranza che ormai si tiene insieme solitamente e prioritariamente dà la necessità di rimanere al potere sapendo che il voto popolare la spazzerebbe via. D'accordo su niente, lo abbiamo visto sui temi della prescrizione, lo abbiamo visto sulle concessioni, lo abbiamo visto e lo ha ricordato anche la collega di Italia Viva nel suo intervento sulle questioni del terremoto, sulle quali poi torno con maggiore attenzione. D'accordo su niente se non su un obiettivo imprescindibile, cioè quello di conservare la propria poltrona. Restare al Governo senza visione e senza prospettiva non porta bene. Ma rischia di mandare allo schianto un progetto politico. Ma se, me lo permetteranno i colleghi, se va allo schianto il progetto politico dei partiti che compongono la maggioranza poco male. Peggio se va allo schianto l'Italia ed è quella a cui dobbiamo guardare con attenzione e il cui senso di responsabilità anche di chi compone questa maggioranza e questo Governo dovrebbe ispirarsi. Fratelli d'Italia e l'opposizione, il centrodestra in genere in questo provvedimento perché vi erano le aspettative di categorie, di corpi sociali, di piccole imprese, dei comuni, ha cercato di avere un atteggiamento costruttivo, facendo proposte e non facendo mai ostruzionismo. E credo che questo possa esserci riconosciuto. Ma questa, che doveva essere un decreto finalizzato a prorogare alcuni provvedimenti, è diventato di fatto un provvedimento omnibus, con tanto di correttivo alla legge di bilancio, nel quale c'è sostanzialmente di tutto. Abbiamo anche scoperto che vi erano delle risorse aggiuntive, tanto a confermare il correttivo alla legge di bilancio, dove sostanzialmente è stato ricompreso di tutto, la qualunque, e poi ci siamo accorti alla fine del provvedimento che mancavano i soldi per qualcosa di serio. Le popolazioni terremotate. Bella figura, complimenti. Veramente si sono date risorse a qualunque istanza particolare proveniente dai vari parlamentari. E poi ci siamo accorti che non eravamo in grado di prorogare la busta pesante alle popolazioni terremotate. Sommessamente ricordo che soltanto nel Comune di Norcia e in altri comuni anche maggiormente due terzi dei cittadini sono ancora fuori di casa. Lo Stato da un lato gli dice che non sono stato in grado, dopo quasi tre anni e mezzo, di darti una risposta, di riportarti alla normalità, ma intanto ti chiedo indietro le risorse, pagami le tasse, cittadino, perché me ne frego se nel frattempo non ti abbiamo ricostruito casa, se non sono ripartite le imprese, se non sono ripartite le opere pubbliche. E se Italia Viva si accontenta della promessa dell'ennesimo rinvio dei provvedimenti necessari al decreto Sisma, che dovevano essere ricompresi in quello successivo, poi lo saranno in quello successivo ancora, beh, mi permetteranno ai colleghi di dirgli di stare sereni. Sicuramente arriverà l'ennesimo decreto Sisma, ma resteranno i problemi e purtroppo saranno ancora i cittadini a doverli pagare. Sugli enti locali si sono fatti, anche grazie a Fratelli d'Italia, alcuni interventi importanti. il Parlamento si era espressa all'unanimità su una questione, quella del funzionamento degli enti locali, in particolar modo la questione dei segretari comunali, alla quale si è arrivati con un provvedimento ulteriormente pasticciato che sta scatenando anche in questi giorni la rivolta dei sindaci, in particolare dei piccoli comuni. E poi ci sono le tante questioni nei confronti del mondo dell'impresa, nei confronti dell'organizzazione dello Stato che non ci permettono di dare questa fiducia, che questo Governo non può avere perché continua ad avere un atteggiamento ostile nei confronti dell'impresa, fa tutto quello che può danneggiare la piccola e media impresa e tutto quello che non può facilitarla in termini di tassazione e di burocrazia. Per non parlare di ciò che continua nel frattempo a verificarsi in termini di immigrazione, come si prospetta il Tana libera tutti, con provvedimenti all'orizzonte che gridano vendette, che sono contrari alla sensibilità all'istanza di tutto il popolo italiano. Io credo che, e non la faccio ulteriormente lunga, non sia scandaloso chiedere la fiducia su un provvedimento come questo. Io credo che sia scandaloso che siate voi a chiedere la fiducia del Parlamento perché non avete più la fiducia degli italiani. Io credo che l'Italia meriti di tornare al voto e di avere un Governo capace di far pensare l'Italia in grande e non a sbarcare un altro mese per restare attaccati alle poltrone di questo Parlamento, che è l'unico obiettivo che tiene insieme questa maggioranza. Per queste ragioni e per le ragioni di merito che prima ho ricordato non avrete, come non avete mai avuto, la fiducia di Fratelli d'Italia.